Acqua e Spa. Ogni giorno ci prendiamo cura della tua acqua. Una cerimonia contenuta e sobria, con i familiari e gli amici più stretti. Un addio composto ma straziante, lontano da troppi clamori, dopo giorni sotto i riflettori dell'intero paese. Ma lo smarrimento e l'indignazione sono ancora vivi e spianate in tutta il topascio per la tragica morte di Luigi Pulcini, l'ex commerciante di 75 anni, ucciso con un pugno davanti al locale per uno sguardo di troppo. Ai funerali che si sono svolti oggi pomeriggio nella chiesa di spianate era ancora palpabile l'inquietudine per una brutale e motivata aggressione che ha strappato Pulcini all'amore della moglie Sandra Baldi, originaria del Tau e che ha voluto che si svolgessero qui le sequie del marito, morto dopo dieci giorni di coma all'ospedale Cisanello lo scorso 15 agosto. Non si meritava di morire così, ha detto un amico prendendo la parola in chiesa e augurandosi che il responsabile della sua morte sia presto assicurato alla giustizia. Toccanti le parole del parroco, Don Michele Lucerna ha detto che l'intera comunità di Alto Pascio è smarrita e indignata per la tragica morte dell'ex commerciante, ma ha invitato tutti a stringersi alla famiglia della vittima, evitando che prevalgano i sentimenti di inquietudine e disperazione. Odio e vendetta non devono avere la meglio, nemmeno in casi come questo, ha detto il parroco, e non bisogna perdere fiducia nella giustizia e nelle istituzioni. È questo anche il messaggio che hanno voluto dare con la loro presenza le autorità locali, a cominciare dai carabinieri e dai rappresentanti dell'amministrazione comunale. Al passaggio del feretro per le strade dispianate, le saracinesche delle attività si sono abbassate in segno di lutto. È stato questo l'ultimo saluto a Pulcini da una comunità ancora scossa per la sua drammatica fine.